In questo video vediamo la doratrice del laboratorio Federici intenta a patinare, ovvero antichizzare, il modello di cornice codice 062. Si tratta di una riproduzione di cornice barocca bolognese in oro e lacca nera molto usata per incorniciare ritratti oppure nature morte seicentesche. Si veda la complicata lavorazione ad intaglio parzialmente dorata, si vedano inoltre le baccellature laccate in nero. La doratrice sta stendendo sulle superfici dorate una patina a base di acqua, colla e pigmenti. Questa è la parte finale della procedura di invecchiamento della cornice, quella che serve per opacizzare le parti di cornice eccessivamente lucide.